Tao Te Ching 1. Il Tao di cui si può parlare non è il Tao eterno. Il nome che si può chiamare non è il nome eterno. Senza nome è l'eternamente reale. Dare dei nomi è l'origine di tutte le cose particolari. Libero del desiderio percepisci il mistero. Prigioniero del desiderio ne vedi soltanto le manifestazioni. Eppure il mistero e le manifestazioni sono generati dalla stessa sorgente. Questa sorgente è chiamata oscurità. Il buio dentro il buio, la porta di ogni comprensione. 4. Il Tao è come una sorgente. Si può usare ma mai esaurire. È come il vuoto eterno colmo di infinite possibilità. È nascosto ma sempre presente. Io non so chi lo ha generato. È più antico di Dio. 11. Colleghiamo i raggi per formare una ruota ma è il vuoto centrale che fa muovere il carro. Modelliamo la creta per fare un vaso ma è il vuoto all'interno che può contenere ciò che vogliamo. Fissiamo il legno per costruire una casa ma è lo spazio vuoto all'interno che la rende abitabile. Noi lavoriamo sull'essere ma il non essere è ciò di cui ci serviamo. 14. Guarda e non vedrai. Ascolta e non sentirai. Prendi e non afferrarai. Sopra non è luminoso. sotto non è oscuro. Senza congiunzioni. Innominabile. Esso ritorna nel regno del nulla. Forma che include ogni forma. Immagine senza un'immagine. Sottile al di là di ogni concezione. avvicinati ad esso e non c'è un inizio. Seguilo e non c'è fine. Non puoi conoscerlo ma puoi esserlo a tuo agio nella tua stessa vita. Semplicemente capisci da dove vieni. Questa è l'essenza della saggezza. 18. Quando il grandioso Tao viene dimenticato compaiono la bontà e la pietà. Quando l'intelligenza del corpo decade si fanno avanti l'esperienza e la conoscenza. Quando non c'è pace in famiglia inizia al rispetto filiale. Quando la nazione precipita nel caos nasce il patriottismo. 22. Se vuoi diventare completo accetta di essere solo una parte. Se vuoi diventare retto accetta di essere contorto. Se vuoi diventare pieno accetta di essere vuoto. Se vuoi rinascere accetta di morire. Se vuoi che ti venga dato tutto. Rinuncia a tutto. Il maestro dimorando nel Tao diventa un esempio per tutti gli esseri. Poiché non si mette in mostra gli altri possono vedere la sua luce. Poiché non ha niente da dimostrare la gente si fida delle sue parole. Poiché non sa chi è. Le persone si riconoscono in lui. Poiché non ha uno scopo in tutto quello che fa a successo. Quando gli antichi maestri dicevano se vuoi che ti venga dato tutto. Rinuncia a tutto. Non stavano usando vuote parole. Solo lasciandoti vivere dal Tao puoi veramente essere a te stesso. 23. Di tutto quello che hai da dire. Poi resta in silenzio. Sii come le forze della natura. Quando soffia il vento c'è solo il vento. Quando piove c'è solo pioggia. Quando le nuvole passano il sole risplende. Aprendo te stesso al Tao sei tutt'uno con il Tao e puoi incarnarlo completamente. Aprendo te stesso all'intuito sei tutt'uno con l'intuito e puoi utilizzarlo pienamente. Aprendo te stesso alla perdita sei una sola cosa con la perdita e puoi accettarla interamente. Apri te stesso al Tao. Poi fidati delle tue reazioni spontanee e tutto andrà a posto. 25. C'era qualcosa di informe e di perfetto prima della creazione dell'universo. È sereno, vuoto, solitario, immutabile, infinito, eternamente presente. È la madre dell'universo. In mancanza di un nome migliore io lo chiamo il Tao. Esso fluisce attraverso ogni cosa, dentro e fuori e ritorna all'origine di tutto. Il Tao è grandioso. L'universo è grandioso. La terra è grandiosa. L'uomo è grandioso. Questi sono i quattro grandi poteri. L'uomo segue la terra. La terra segue l'universo. L'universo segue il Tao. Il Tao segue solo se stesso. 34. Il grandioso Tao fluisce ovunque. Tutte le cose nascono da esso, eppure non le crea. Si riversa nel proprio lavoro, ma senza alcuna rivendicazione. Nutre infiniti mondi, ma non li trattiene. Poiché è immerso in tutte le cose, e nascosto nei loro cuori, si può dire che sia umile. Poiché tutte le cose si dissolvono in esso, ed esso solo resiste nel tempo, si può dire che sia grandioso. Non è consapevole della sua grandiosità. Per questo è veramente grande. 36. 36. Se vuoi restringere qualcosa, prima devi lasciare che si espanda. Se vuoi liberarti di qualcosa, prima devi lasciare che si sviluppi. Se vuoi prendere qualcosa, prima devi lasciare che venga data. Questa è chiamata la sottile percezione del modo in cui vanno le cose. La dolcezza vince sulla durezza. La calma vince sulla velocità. Lascia che le tue azioni rimangano un mistero. Solo limitati a mostrare agli altri i risultati. 39. In armonia con il Tao, il cielo è chiaro e aperto. La terra è solida e piena. Tutte le creature prosperano insieme, contente di essere come sono, infinitamente ripetendosi, infinitamente rinnovate. 40. Quando l'uomo interferisce con il Tao, il cielo si fa oscuro, la terra si impoverisce, l'equilibrio si sgretola, le creature si estinguono. 41. Il maestro osserva le parti con compassione, perché intuisce il tutto. La sua pratica costante è umiltà. 42. Non brilla come un gioiello, ma si lascia modellare dal Tao come una comune pietra grezza. 40. Il ritorno è il movimento del Tao. La flessibilità è la sua via. Tutte le cose nascono dall'essere. L'essere nasce dal non-essere. 41. Quando un uomo superiore sente parlare del Tao, comincia immediatamente a incarnarlo. Quando un uomo comune sente parlare del Tao, per metà ci crede, per metà ne dubita. Quando uno stolto sente parlare del Tao, si mette a ridere. 42. Se questi non ne ridesse, non sarebbe il Tao. 43. Perciò si dice, il cammino nella luce sembra oscuro. 44. La via che va sembra che ritorni. 45. La strada diretta sembra lunga. 45. La vera forza sembra debolezza. 46. La vera purezza sembra falsità. 47. La vera risolutezza sembra incostante. 47. La vera chiarezza sembra oscura. 48. La più grande arte sembra spontanea. 49. Il più grande amore sembra indifferenza. 49. La saggezza superiore sembra puerile. 49. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 50. Eppure esso alimenta e completa ogni cosa. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 51. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. 52. Il Tao non si può trovare da nessuna parte. Grazie a tutti.